Il mio cane era al guinzaglio ed è stato morso da un cane libero. Cosa devo fare? Ciao, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. Abbiamo sempre l'abitudine di parlare con chi possiede il cane che aggredisce, ma prendiamo poco in considerazione chi viene aggredito, che spesso subisce dei traumi che perseguono nel tempo, sviluppando a loro volta comportamenti aggressivi intraspecifici. Purtroppo episodi di questa natura capitano molto spesso e sono frutto dell'inciviltà e della maleducazione di alcuni proprietari che considerano il loro cane un santo e professano a qualsiasi incontro di stare tranquilli perché il loro cane è buono con tutti. Poi però purtroppo i fatti dicono il contrario. La regola principale è che un proprietario è responsabile di tutto ciò che il suo cane fa e faccio appello proprio alla coscienza di tutti i proprietari di cane che non dovrebbero lasciare i propri cani liberi se non sono sicuri delle loro reazioni e soprattutto senza averne il controllo. Tuttavia la prima cosa sensata da fare è quella di non urlare perché i cani si nervosirebbero ancora di più rischiando danni ancora più seri. Bisogna anche ricordarsi di non mettere le mani in mezzo ai cani perché si rischierebbe un morso ma bisogna separarli subito quanto prima. Una tecnica efficace è quella di lanciare un getto d'acqua in prossimità della faccia dei due cani ma chiaramente bisogna essere provvisti di una canna altrimenti bisogna posizionarsi dietro i cani e sollevarli dalla coda in modo da staccarli. Fatto ciò portare immediatamente i cani dal veterinario per un primo controllo medico. Successivamente il proprietario del cane che è stato aggredito con un esperto di comportamento dovrà verificare che il suo cane non abbia subito dei problemi a livello psicologico. Potrebbe anche darsi che per paura il cane tenderà ad aggredire i cani che incontrerà pur di non ripetere l'esperienza pregressa. Questo è un atteggiamento comprensibile ma che pone il vostro cane in condizioni pericolose non più come vittima ma come provocatore pur essendo mosso da comportamenti di paura. Spero che questo video vi possa essere stato utile e continuate a seguirci sui nostri canali social e sul nostro canale youtube.